Andiamo al segno del cancro. Beh, questa è una luna che porta un po' di trambusto all'interno delle pareti domestiche. Si scontra con Urano, una luna elettrica questa, se vogliamo. Quindi, magari, lavori che hanno a che fare con l'elettricità, attenzione anche all'elettricità in casa, ma soprattutto è una luna che porta dei cambiamenti a livello di rapporto con i vostri figli, con il vostro partner, con i vostri genitori. Ecco, magari ci potrebbe essere anche uno scontro deciso, ma può servire a mettere in chiaro una volta per tutte quelle che sono le vostre esigenze, i vostri punti di vista e quelle che sono invece le richieste che arrivano dall'altra parte per un chiarimento definitivo, una volta per tutte. Del resto, questa Venere vicina a Urano, in un punto del vostro oroscopo che ha a che fare con le vostre ambizioni, fa emergere quelle che sono le vostre insoddisfazioni, quelli che sono i vostri desideri e i vostri progetti che potrebbero non collimare con quelli delle persone che vi circondano.